buongiorno a tutti buona domenica che bella la domenica è il giorno del Signore è il giorno che ci ricorda la risurrezione e la risurrezione ci dice vita nuova desiderate di vivere con Gesù desiderate di camminare con il Signore desiderate di consacrarvi a Lui e di appartenere a Lui non lasciate la via di Dio non lasciate la via della Chiesa non lasciate la via del Vangelo camminate con Gesù camminate con la Chiesa camminate con il Vangelo noi siamo creature togliamo dal cuore ogni forma di superbia a volte ne vogliamo sapere più di Dio ma perché siate sempre piccoli umili e obbedienti nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen Padre nostro che sei nei Cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora è sempre nei secoli dei secoli Amen Angelo di Dio che sei il mio custode illumina custodisci reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste Amen l'eterno riposo donna loro Signore e splenda ad essi la luce perpetua riposino in pace Amen il Signore sia con voi vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo Buona Domenica a tutti Grazie a tutti